La giornata danita dell'Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, sabato sera si è conclusa nella chiesa di San Filippo per presiedere la celebrazione eucaristica dell'insediamento del nuovo parroco Don Piero Longo, celebrazione trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Si è trattato di un momento importante per la comunità di San Filippo che ha dato il benvenuto al suo nuovo parroco e salutato quello con cui si è identificata negli ultimi anni, ovvero Don Gaetano Milazzo, naturalmente presente anche lui con tanti altri sagerdoti e il sindaco Fabio Mancuso, ma ecco presente e passato nella parrocchia di San Filippo, nella parrocchia, nelle strade dove è cresciuto, cosa significa tutto questo per lei? Per me è un dono di Dio poter servire al popolo a cui io sono appartenuto dall'infanzia, la chiesa di battesimo è proprio San Filippo per me. Mio padre e mia madre sono stati cristiani praticanti e hanno voluto farmi rinascere qui nella parrocchia di provenienza dove c'è la nostra casa in via Alleanza, anche se primo partecipato da piccolo a quella del cappellone che oggi padre Milazzo ha cercato in tutti i modi di riprendere, di tenerla in considerazione e altrettanto farò io per poter servire anche quella periferia dove c'è anche la mia casa, la casa dei miei nipoti, la casa di mia sorella, il terreno di tanti miei... siamo originari... Come un San Fulippano doc... Sì, 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 sì... Lei ha detto, padre Milazzo mi lascia una chiesa splendente e ovviamente non si riferiva solo alle luci. Certamente non è un fatto strutturale ma misterico, ecclesiologico, perché noi contribuiamo a che la grazia di Dio cresca e non sempre tante volte noi preti facciamo la volontà del Signore ma nella misura in cui realizziamo la sua volontà i frutti ci sono, la buona gente c'è e quindi c'è innanzitutto il merito di chi guida. Questa è la migliore soddisfazione e spero di poter continuare l'opera che lui come altri hanno iniziato e che io subentro al lavoro prezioso che loro hanno condotto fino a oggi. Padre Milazzo, l'ora lascia la parrocchia di San Filippo ufficialmente questa sera. Ecco, cosa si sente di dire alle tante persone che l'hanno collaborata in questi anni? Grazie di cuore veramente a tutti e nello stesso tempo, oltre che grazie per la piena e grande collaborazione, le preghiere forti perché io continuo bene il mio lavoro che non è solo qui, è anche fuori di qui e anche per Adranno io sono sempre disponibile a qualche celebrazione come domani mattina c'è il padre Pedradia che ha il Covid quindi vado a celebrare per lui ma poi io sono in qualche modo inserito, poi il vescovo l'ha detto, sarò anche in qualche modo presente a San Pietro qualche volta magari per ricevere qualche persona e avere qualche contatto con il figlio. Ma padre Milazzo sarà ancora con la comunità dell'anità? Io sono in tarda l'anità perché l'arcivescovo magari ha scelto, non mi ha dato un incarico costante, questo è vero, lui ha detto tu sei libero e hai già altri compiti, svolgerli bene. Tanti auguri a tutti e due. Grazie. Padre Longo diceva? Padre Milazzo non è che va fuori dalla parrocchia, io avrò bisogno di lui, del consiglio, dell'aiuto e quindi tutto quello che è nelle sue possibilità sarà sempre con noi nella parrocchia di San Filippo poi se ci sono altri impegni nella sua libertà San Pietro e tutto il vicariato sarà sempre a nostra disposizione lo immagino e lo posso anche affermare ma certamente non è fuori dalla parrocchia di San Filippo o allo Spirito Santo o al cappellone o in parrocchia o perché ci alterneremo lui sarà sempre con noi. Ho detto davanti all'arcivescovo non debbono minimamente pensare i sacerdoti, padre Abate, Monsignor Reina, padre Milazzo, padre Calambrogio domani, domani padre Longo, non siamo in rottamazione, siamo preziosi, non si deve buttare niente e tutto va valorizzato. Arcivescovo allora cosa rimarrà nel suo cuore di questa giornata? Bene, non solo la grande amorevolezza degli Adraniti ma anche la bella celebrazione, la gratitudine per padre Gaetano, la bella accoglienza per padre Pietro, una storia parrocchiale che continua e che si consolida.